Siamo a Dariano Irpino con il regista Luigi Parisi. Luigi, noi sappiamo che tu sei in finale con due opere, una è Figli di Nessuno e l'altra è The Strange Case of Emily Gray. Come è stato switchare diciamo tra un cortoscuola e un horror? Diciamo sono due cose completamente diverse perché il primo Figli di Nessuno in realtà è un progetto scolastico che parte con tutta una cosa differente in realtà perché insieme con Cecilia Maisano che dopo andremo a incontrare è nato questo progetto di far incontrare i ragazzi degli istituti scolastici pubblici, questa è la novità, il cinema e quindi con personaggi dello spettacolo come Marco Bocci, Gabriel Garco, Vittorio Arcenco eccetera eccetera quindi nomi importanti che hanno tenuto delle lezioni e come base finale è nato un cortometraggio guidati ovviamente da me come regista eccetera eccetera e quindi questo ha fatto anche già un ottimo percorso a livello di altri festival devo dire è stato molto importante. Poi ho anche un hobby perché poi in realtà il mio lavoro vero è quello di fare fiction, film fiction per la tv come regista. Poi siccome ho una passione parallela che è quella dell'horror e del fantastico mi diverto ogni tanto a fare dei cortometraggi personali e privati e The Strange Case of Emily Gray è uno di questi. Quindi hai introdotto Cecilia Maisano che è stata la produttrice di Figli di Nessuno. Quanto è difficile al giorno d'oggi produrre un corto così? Natiuto buonasera, per me tanto perché questo non è il mio lavoro, il mio lavoro primario è ben altro e di conseguenza mi sono buttata in questa impresa che è nata perché sono l'ideatrice e anche la produttrice di questo progetto extracurriculare che ho portato a scuola in una delle scuole più importanti d'Italia e la numero uno a Reggio Calabria del liceo scientifico Leonardo Da Vinci diretto dal dirigente scolastico Giuseppina Princi. Abbiamo fatto questo lungo percorso di quest'anno scolastico, la fine è stata la realizzazione di questo corto e naturalmente ho continuato la produzione. Devo dire che è stato difficile ma molto molto bello perché ho avuto diretto contatto con i ragazzi, collaborazione, sinergia un po' con tutti, con gli artisti. Devo dire grande aiuto da parte di Luigi Parisi che è stato il perno portante insieme al dirigente scolastico di questo bellissimo progetto. Allora noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo e speriamo di rivedervi presto all'Ariano International Film Festival. Grazie. Crepi, ok grazie a tutti, ciao. Crepi, grazie.